Ciao amici, benvenuti su Mister Tutto Fare. Per la prima invenzione di oggi dovremo chiedere a una bottiglia d'acqua di prestarci il suo tappo. Per il momento non ne avremo bisogno, quindi mettetelo da parte e prendete una scatola di fiammiferi completamente rifornita. Toglieteli tutti dal contenitore e selezionate quelli che vi piacciono di più, finché hanno abbastanza polvere magica rossa sulle loro teste. Circa 12 di loro saranno sufficienti. Iniziate a tagliare i fiammiferi a metà con l'aiuto di un paio di pinze da taglio. Lo finiremo in fretta per non annoiarvi. Rimuovete una delle lampadine dalle luci di Natale del vostro albero prima di metterle via per il resto dell'anno e rompete il vetro con qualsiasi oggetto. Una volta che i filamenti sono esposti lasciate riposare un attimo e tornate al tappo dell'acqua dell'inizio. Applicate la colla sul bordo del foro per poter attaccare i resti della vecchia luce di Natale. Pissate entrambi i pezzi con altra supercolla e riempite il coperchio con le teste dei fiammiferi che avete posizionato sulla carta. Tirate fuori del nastro adesivo del tipo con cui coprivate la bocca di vostro fratello e tagliatene un pezzettino. Tagliatelo in tre pezzi più piccoli. Con questi ricopriremo il contenitore dei nostri fiammiferi. Nel frattempo ditemi cosa avete fatto per l'anno nuovo. Io ogni anno esco con i miei amici dopo aver cenato con la mia famiglia, ma quest'anno abbiamo dovuto cancellare tutto a causa di questa pandemia. Come sono state le vacanze nel vostro paese? Forse alcuni di voi ragazzi l'hanno vissuta diversamente da me. Una volta che avremo il nostro contenitore avvolto come una decrepita mumia egiziana, prendete un rotolo di fili e separate i colori per spellarli, lasciandoli pronti per fare i collegamenti necessari. Tagliate un pezzo di nastro isolante e coprite i collegamenti realizzati di recente per evitare cortocircuiti. Una volta pronta la prima connessione, procederemo a fare lo stesso con l'altra estremità della volgicavo, ripetendo il passaggio precedente, ma questa volta collegandolo ad un interruttore come quello che vedete a schermo. Collegate questo interruttore solo al filo nero, poiché al filo rosso andrà uno dei fili del nostro buon amico, lo snap. Collegate il filo nero all'interruttore e i fili rossi tra loro. Prendete una batteria quadrata da 9 volt. Mi è stato detto che sono piuttosto costose in alcuni posti. È un peccato. Collegate la batteria alla clip per fornire alimentazione al nostro segnale di fumo remoto. Incollate la batteria e il pulsante insieme come ultimo passaggio del circuito elettrico. Quando premiamo il pulsante ci vorranno pochi secondi prima che il fumo inizi a uscire, ma qui non faremo alcun segnale di fumo. Avete visto quella nuova tendenza di usare il fumo colorato per rivelare il genere? Bene, faremo lo stesso con queste palle giganti. In questo modo conosceranno il sesso della persona che ha bisogno di aiuto. Abbastanza rivoluzionario, secondo me. Pissate il giunto tra lo stoppino della palla di fumo e il contenitore del fiammifero con un pezzo di nastro adesivo e perdetevi nelle profondità della foresta o su una strada in ospitale per testare la nostra invenzione. Dopo poco tempo si attiverà la pallina e comincerà ad apparire il fumo colorato. Perfetto Julio, hai detto che saremmo venuti qui, vero? Vuoi dire, ti sei dimenticato? Ora ci siamo persi davvero! Pensavi davvero che avrebbe funzionato? Per la seconda invenzione avremo bisogno di alcuni tappi di bottiglia d'acqua. Applicate la colla istantanea sul bordo di ciascuno per fonderli insieme creando quelle che saranno le ruote della nostra futura moto. A proposito, cosa preferite, auto o moto? Mi piacerebbe davvero un'auto sportiva decapottabile. Vale la pena sognarla. Prendete del nastro adesivo e avvolgete entrambe le ruote per rinforzarle. Non possiamo farle staccare mentre guidiamo. Vi ho detto di quella volta che la mia macchina ha fatto esplodere una gomma mentre tornavo a casa? Ho dovuto chiamare un carro attrezzi e pioveva, quindi sono finito fradicio e senza macchina. Create un foro con l'aiuto di un saldatore su un lato di ciascuna ruota. Create la dimensione perfetta per adattarsi ai perni di un motore giocattolo che potete ottenere smontando qualsiasi giocattolo che prendete da un bambino. Una volta che il motore è pronto, inserite una ruota su ogni perno motore, premendo con forza fino a sentire quel caratteristico scatto. Sapete come si dice? Un inventore preparato vale il doppio. Quindi riempiremo i perni del motore con la colla istantanea in modo che quelle ruote non si spostino mai. Non sono mai stato così felice di mangiare un paio di ghiaccioli per prendere i loro bastoncini. Non so voi, ma almeno nella mia città è tornato il caldo soffocante. Applicate la colla sul motore per attaccare uno dei bastoncini del ghiacciolo e ripetete questo passaggio con l'altro bastoncino. Incollatelo sotto. Prendete una di queste costose batterie quadrate che nessuno usa più e applicate la colla istantanea sui lati più grandi. Mettetela tra entrambi i bastoncini di ghiacciolo e fate pressione. Appaiano magicamente un altro paio di bastoncini di ghiacciolo. Incollate i bastoncini sui lati visibili della batteria con una leggera angolazione. Con questo avremo pronta la struttura principale della nostra moto rocker. Bastano ancora pochi passi per uscire e dominare le strade. Ma una moto senza sistema di avviamento non è altro che un triciclo sottile, quindi mettiamoci al lavoro. L'elenco dei componenti per il nostro impianto elettrico lo conoscete già, ma ve li mostro ancora sullo schermo per chi ha la memoria di un pesce. Quindi intanto una veloce domanda a caso, per rompere il ghiaccio. Qual è il vostro sport preferito? Mi piace molto il tiro con l'arco. Ma certo che è uno sport! Inserite il filo rosso del moschettone attraverso il foro in uno dei perni dell'interruttore e ruotatelo per evitare che si allenti. Fate lo stesso con il piccolo pezzo di filo nero. Fondete la saldatura sui collegamenti che abbiamo realizzato nel passaggio precedente per fissarli ed evitare cortocircuiti indesiderati. Collegate il fermaglio alla batteria e posizionate l'interruttore nel piccolo foro per effettuare i collegamenti finali dai fili rimanenti ai pin del motore. Applicate una piccola quantità di supercolla sotto l'interruttore per tenerlo saldamente in posizione e saldare insieme le connessioni del motore. Sarebbe tutto per il circuito elettrico, ma non mentetevi comodi, ci sono ancora diversi passaggi da completare. Per cominciare manca la gomma anteriore senza la quale la nostra moto non potrebbe correre. Unite insieme due tappi a vite identici e quindi create un piccolo foro attraverso l'intero pezzo. Anche questa ruota sarà ricoperta di nastro colorato in tinta con quelle posteriori. Qualcuno qui sa come cambiare le gomme? La verità è che sono terribile in tutto questo. Per installare l'ultima delle ruote dovremo inserire un bastoncino di legno sottile attraverso i fori precedentemente creati. Usiamo la nostra punta più piccola per fare dei fori nella struttura del legno. Posizionate la ruota allineando tutti i fori, in questo modo lo stick passerà facilmente e potrà ruotare senza intoppi. Elimineremo l'eccedenza su ogni lato e faremo il nostro test di qualità di routine. Oh, non sembra in grado di muoversi. Dovremo definire come le gomme aderiscano bene alla superficie per andare avanti. Tagliate un sottile pezzo di schiuma in piccole strisce con le forbici e applicate la colla istantanea sui bordi. Attaccate questo nuovo accessorio che simulerà i modelli di pneumatici veri. Sembrerà anche più cool durante la rotazione. Usate più strisce di schiuma per riempire gli spazi tra ogni striscia arancione ma di un colore diverso per dargli un buon design. Il solo vedere quelle gomme girare mi fa immaginare di viaggiare per strada con canzoni heavy metal in sottofondo. Come ultimo dettaglio, prima di poter sfoggiare la nostra moto, creeremo un paio di manubri. Tagliate due pezzi da una cannuccia ed il nastro adesivo nero. Posizionate il nastro sull'estremità di ogni pezzo di cannuccia per renderlo più realistico. Questa moto mi ricorda gli anni del liceo quando ero un rocker hardcore e metalhead, ascoltando AC, DC e Metallica. Poi ho scoperto Taylor Swift con la sua canzone Shake It Off. Ora sono una signora quando si tratta di musica. Ho il piacere di presentarvi la migliore e più perfetta motocicletta in legno mini chopper mai creata. La chiamerò Petunia. Basta guardarla, via! Mi sento il re della strada. Posso anche fare piccoli trucchi con lei. Darei un 11 su 10. Cantate con me! I'm on a hell, way to hell! Dai, è impossibile che non la sappiate, è un classico! Tutto ciò di cui ho bisogno ora è la mia giacca di pelle, delle catene spesse e i miei stivali neri, per sembrare davvero tosto. Anche se tutti sanno che sono un debole. Ecco qualche ultimo scatto di lei che fa dei trucchi per convincervi che non c'è miglior trasporto su tre ruote della mia cara Petunia. Mi prenderò cura di lei meglio dei miei figli. Soprattutto perché non ne ho. Ma se... Grazie a tutti.